Vediamo subito come accedere al PILOTS DATABASE Entriamo nel sito della biblioteca, quindi www.biblio.unimip.it Nella sezione accesso rapido troviamo MetaVib, biblioteca digitale, il portale attraverso il quale entriamo nelle risorse elettroniche della biblioteca. Possiamo accedere alle banche dati e scaricare gli articoli anche dall'esterno della rete di Ateneo, ad esempio da casa propria. Ma prima dobbiamo configurare il nostro PC seguendo le istruzioni che troviamo subito sotto. Accesso da casa alle risorse elettroniche. Il modo più veloce per accedere a PILOTS è entrare in MetaVib, selezionare Trova banche dati e digitare PILOTS. Lo riselezioniamo. Si presenta di default la ricerca avanzata, Advanced Search. Da questa pagina possiamo accedere alla ricerca base, Basic Search, o tornare alla ricerca avanzata, Advanced Search, dalla quale accediamo anche alla ricerca tramite il Tesaurus, il vocabolario interno dei termini controllati della banca dati. Vedremo insieme nei prossimi video tutte queste modalità di ricerca. Grazie. 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 Grazie.